cari amici benvenuti in questo 21 12 12 l'ultimo giorno del calendario maya e per alcuni anche l'ultimo giorno del mondo il mondo dovrebbe finire con delle cose disastrose hanno inventato che arrivano gli zombie che ci sono terremoti eruzioni vulcaniche e poi non so cos'altro mamma mia cos'altro stavano inventato chi è che ti sbattono la porta di casa in faccia che cattiveria cosa nasconditi tu una birch mamma mia ma almeno il vaso lo potevi lasciare eh vabbè ho mai andato no ma cos'era allora mi sembra che fosse una di quelle cose più probabili che avevano detto forse gli asteroidi ci sta o le comete ma mi sa che i maia mi sa che i maia ho visto delle stelle cadenti amore dicevo mi sa che i maia non ci avevano mica tutti i torti aiuto no ma adesso sta distruggendo tutto sta esplodendo ecco qual è la vera ragione per la fine del mondo la venuta dei creeper alieni dallo spazio non ci posso credere nessuno ci aveva pensato è perché c'erano i creeper alieni ok quindi mantenendo la dovuta calma noi adesso andremo dritti dritti a scappare e vedendo a me tu da qui aiutat eineni aiuta a la prossima fin del mondo adesso andremo salvarci da pelle ciao